la crisi del terzo secolo dopo cristo fu prima di tutto una crisi militare all'inizio del terzo secolo dopo cristo diventò infatti sempre più difficile il controllo dell'imes cioè del confine fortificato tra il mare del nord e il mar nero costituito dai corsi del reno e del danubio e dalle fortificazioni innalzate lungo questa linea le incursioni delle popolazioni che vivevano al di là dell'imes si fecero sempre più minacciose già l'imperatore marco aurelio nella seconda metà del secondo secolo dopo cristo era stato a lungo impegnato contro quadi e marcomanni popolazioni germaniche che nel 166 erano giunte fino ad aquileia ora però le scorrerie si ripetevano con tale frequenza che alcune province rischiavano di sfuggire al controllo romano anche il confine orientale e meridionale era insicuro perché in asia era minacciato dalle incursioni dei sassanidi discendenti degli antichi persiani mentre in africa dalle pressioni delle tribù berbere allo stesso tempo alcune rivolte interne misero in pericolo l'unità dell'impero postumo comandante delle legioni del nord proclamò l'impero delle gallie che comprendeva quasi tutta l'europa occidentale a est zenobia e odenato rispettivamente regina e re del regno di palmira in siria dettero vita a uno stato indipendente che riuniva le province asiatiche e l'egitto intorno alla capitale palmira in siria nel 272 dopo cristo ambedue i regni autonomi furono ricondotti sotto l'autorità centrale dell'imperatore aureliano che dovette sacrificare tuttavia la provincia della dacia creata da traiano nel 112 dopo cristo aureliano infatti aveva trascurato la difesa della regione perché era impegnato sul fronte occidentale e orientale nella riconquista dei territori usurpati iscriviti al nostro canale